treno me autostrada viaggiante da domodossola con locomotiva 486 e 486 505 con un treno rola proveniente dalla svizzera via domodossola ma vai via ma dai che forse ce la fa facendo con me le mosche vai no si ferma no si ferma qui no ce la fa ce la fa sento che ce la può fare ce la fa vai apertura pl a 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